Mi padre mi diceva, fa attenzione a chi chiacchiera troppo, a chi promette, a chi dopo esser entrato fa permette, a chi arribarda spesso l'opinione e a quello con la testa da cojone che nulla cambia mai, a chi scommette e a chi le mano nulle stringe strette, a quello che pia il volo ogni occasione per dire di sì e offrisse come amico, a chi ti dice sempre, so d'accordo, a chi s'atteggia come il più perfico, a chi parla e si muove sotto traccia, ma soprattutto a quello il più balordo che quando parla, non te guarda in faccia.